appuntamento mercoledì undici giovedì dodici maggio con l'atteso evento in programma al Politecnico di Bari eh la Bari Smart City Conference che ha come focus il tema della sostenibilità e della resilienza nei centri urbani del Mediterraneo. Tra le aziende che saranno protagoniste e partner proprio di questa manifestazione eh pugliese anche Simens realtà leader su scala mondiale in tema di tecnologie dalla mobilità servizi di vario genere con prodotti e opportunità anche nel contesto degli smart buildings e delle smart cities. A parlarne è il dottor Gianluca Bellani product manager head proprio di Simens. Dottor Bellani buongiorno allora un piccolo focus da parte sua sull'azienda e sul perché avete deciso di partecipare alla Bari Smart City Conference. Buongiorno a tutti eh appunto mi chiamo Gianluca Bellani sono il responsabile del gruppo dei product manager di BP quindi building product. Eh perché abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa? Ma perché sicuramente è un'iniziativa molto interessante che eh tratta un tema molto interessante che è quello delle smart cities e in particolare gli smart building. Tema noi caro essendo un'azienda che opera in questo contesto. Quindi è una parte è una partecipazione come dire eh interessante per il contesto e per il tema che questa questa iniziativa tratta. Dottor Bellani come sta cambiando a suo avviso a vostro avviso il mondo dell'edificio a 360 gradi e quale sarà il ruolo proprio degli edifici del futuro? In sostanza che cosa si intende per smart building e perché parliamo di edificio intelligente? Allora negli ultimi anni stiamo assistendo a una trasformazione eh funzionale dell'edificio no? Quindi eh si passa da un edificio che di fatto era un involucro un involucro passivo destinato a eh garantire il comfort di di chi ci abitava a un un sistema tecnologico complesso dove ci sono integrazioni di discipline diverse quindi si parla di comfort, sistemi anti-intrusione, sistemi anti-incendio. Tutti questi prodotti, queste tecnologie vengono poi coordinati da dei sistemi di controllo che di fatto sono un po' l'intelligenza dell'edificio. aggiungiamo poi a questo contesto eh che l'edificio diventa anche un produttore di energia perché si sa pannelli solari eccetera quindi l'edificio muove da essere un edificio passivo come dire nella logica consumer ad essere un oggetto prosumer cioè quindi un oggetto che produce energia e consente di utilizzare anche queste fonte energetiche in modo passato in termine intelligente quindi anche con un occhio a quelli che sono i consumi e agli impatti energetici. È chiaro che lo smart building è il primo tassello di una città di una che evolve verso una città a basso impatto energetico quindi se vogliamo è l'attore principale di quella che poi è la smart cities. Certamente. Dottor Bellani in questo scenario proprio appunto del dell'edificio intelligente quali sono le maggiori sfide che il mercato in particolare italiano sta affrontando e dovrà sempre maggiormente affrontare nel prossimo periodo. Paradossalmente proprio il contesto nel senso che noi ci muoviamo siamo in un contesto fatto di edifici esistenti tre edifici su quattro hanno più di 30 anni ma ha fatto anche di persone quindi siamo in un operiamo in un contesto in cui sicuramente gli edifici non sono smart e i comportamenti anche delle persone talvolta sono frutto anche un po' di retaggi di comportamenti sicuramente non passatemi come dire l'espressione non proprio energeticamente corretti. Quindi bisogna cambiare un po' sia gli edifici ma parallelamente anche le persone perché nulla può la tecnologia se poi chi la usa non è sensibilizzato a usarla nel modo corretto. Quindi bisogna innescare quello che in gergo viene definito il ciclo virtuoso del risparmio cioè cosa vuol dire vuol dire che le tecnologie devono abilitare la possibilità la parità di comfort chiaramente di dare un risparmio energetico però bisogna in parallelo anche incentivare le persone ad usarlo come facendo di risparmiare. Quindi in pratica chi usa questa tecnologia deve avere un beneficio diretto deve avere un risparmio anche economico diretto. Questo invoglia le persone a usare la tecnologia nel modo corretto li stimola perché risparmiano e questo risparmio personale poi si traduce in un minore impatto energetico per la collettività. Quindi si parte dal singolo per arrivare poi su larga scala ad avere un beneficio anche ecologico se vogliamo. Quindi la tecnologia deve essere abilitante in questo e oggi voglio che operiamo in un contesto di edifici esistenti e quindi non si può pensare di fare interventi di ristrutturazione ma bisogna pensare di aggiungere questa intelligenza su un parco edifici che è sicuramente adattato. Dottor Bellani per concludere quali sono le tecnologie in particolare quelle targate Siemens e che abilitano proprio l'evoluzione nel mondo degli edifici in questo contesto in quest'ottica? Ma allora direi che in generale al di là della tecnologia Siemens deve esserci un must in questo uso di questi oggetti di queste tecnologie. Sicuramente devono essere a basso impatto economico. Le persone non possono avere come dire un ritorno dell'investimento superiore ai quattro anni se no non faranno mai paradossalmente questo investimento. Poi devono essere tecnologie che si aggiungono quindi nessuno interventi di ristrutturazione non bisogna cambiare gli impianti non bisogna non bisogna ricablare niente perché i cablaggi sono antiestetici quindi tendenzialmente sono tecnologie radio. Quindi bisogna dare la possibilità alle persone di controllare il proprio comfort per esempio all'interno dell'appartamento e dare visibilità di quanto una persona sta consumando. Questa crea quel famoso ciclo virtuoso di risparmio. Consapevolezza e la possibilità di agire. Questo deve essere fatto attraverso delle app che siano facili da utilizzare perché stiamo parlando di persone che non hanno un master voglio dire in qualche tecnologia particolare ma sono persone comuni e gli oggetti devono essere facilmente installabili. Noi in Fiera proponiamo un portfolio nuovo e è un'anticipazione abbiamo giusto qualche oggetto in questo momento in particolare c'è una un attuatore che si può installare su qualsiasi radiatore e che consente comandato tramite un'app di consente all'inquilino di impostare il proprio comfort e i propri programmi orari e questo è solo l'inizio di un portfolio che poi in realtà prevede oggetti IoT quindi oggetti comandati attraverso internet che vanno dai sensori all'allagamento, sensori di presenza, la possibilità di comandare le prese o le luci quindi tutto nell'ottica di creare uno scenario domotico ma di facile installazione soprattutto pensato per edifici già costruiti. Tutto comandato da un'app. Grazie mille allora dottor Bellani di Siemens che sarà insomma una delle aziende protagoniste durante la Bari Smart City Conference. Grazie per essere stato con noi. Appuntamento all'11 di maggio proprio al Politecnico di Bari. Grazie a tutti, grazie Ilaria e ci vediamo presto.